Il nemico sta conquistando la posizione E. Disturbatori attivi! State pronti! Attenzione! È appena arrivato un agente di punta nemico! Prendiamo l'obiettivo! Il nemico ha conquistato il posto di comando bene. Sensori nemici disattivi! Sensori nemici disattivi! L'ho distrutto! Volete solo fare i danni? Su, la testa! La vittoria è vicina. Teneteli sotto pressione. Hanno avvistato Ray. Non va sottovalutata. L'ho distrutto! Il fin è so io! Sì Agente delizio in campo! L'ordine provvede! Trasporti in arrivo. Ci porteranno fino all'incrociatore. Lancio! I Lander sono pronti all'imbarco. Tutte le unità salgano a bordo dei trasporti. Presto i trasporti saranno pronti al decollo. Granata! AAL a pieno carico. Prossimo obiettivo, incrociatore della resistenza. La battaglia procede bene. Prepararsi ad abortare l'incrociatore stellare nemico.